Domenica la rassegna dedicata alla letteratura e alla cronaca nera italiana, Bonoir, si occuperà del caso di Cogne. È una mattina del gennaio 2002, quando nello scelè di montagna di quella che è da tutti considerato una famiglia perfetta, da pubblicità patinata, viene ucciso in modo brutale il piccolo Samuele Lorenzi, di appena tre anni. Unica indagata, la madre, Anna Maria Franzoni. Grazie a tutti.